Ciao ragazzi, questo è il primo gameplay che facciamo C'è il mio fratello che è in play e io farò il commentary Dunque, io sono Tommy e io sono Yaki Piacere a tutti voi, speriamo diventerete numerosi Iniziamo subito A nessuno importa le presentazioni Va bene, come avete già capito il gioco è Skyrim Bubble Path Esatto, Bubble Path Come infatti lo vedete quello è il draghetto di Bubble Path Ci assomiglia molto Io intanto mangio un'aranza E poi un mandarino Cosa cambia d'aranza a mandarino? Non lo so Bethesda Grande Grande Mi tiro fallout Ci siamo Oh Ma è seria la cosa Skyrim E là Si vede che sono felici Ma io Ma io Fantastico Già Beh dai ragazzi non è che tu non è così male E tu Finalmente hai aperto gli occhi Ciao No Anche noi siamo finiti dritti in quelli in boscata imperiali proprio come lui Se lo dici tu Ma Skyrim andava tutto bene prima del vostro arrivo Tu non dici niente? Eh a bavagliatore E' a bavagliatore Amhertel 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 Ma è il palo Guarda pesante Vedete un po' come Chi è che parla? il problema luciderevo tirai un copino premola stai parlando aiuto parla non ho colito da parte capo non so dove stiamo andando parla con lui sta guardando ma perché stanno parlando in cui l'imbevagliato penso non ho fai gato i dialoghi lenta l'ho presa però molto molto lenta no no si bene si ok dov'è minchia guardi questa è un tempo c'era una ragazza qui chissà servito ancora quellino mele dentro le vacche vicine la ragazza le mure e le torri imperiali mi facevano sentire assicuro sta zitto bambino schifoso no 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 sai vedere no 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 sai guardare il gioco è bello ma la presentazione è lunga troppo lunga se lui vuole andare contro il muro non mi sembra una sima questa non è contese fare attendere poi sintattico oi affronta la morte con coraggio brigante adesso son cassi non eravamo così questo è un errore state verso il cieco quando diciamo il vostro anone uno alla volta l'impero adora le sue stramale l'impero adora le sue stramale l'impero adora le sue stramale presente 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 addio 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 ma che va a punto se sono più eccolo non potete farmi questo è convinta lei quello si muove non se ne accetta dopo le spalle addio 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 abbiamo fatto il personaggio abbiamo finito il personaggio e guardate che stile che stile ok ok mettiamo il nome ok nome che è da di sicuro lo riconoscerete chi gioca a magic ok non non fai parte dell'ambasciata vero è il fuoco c'è sta buono capitano cosa facciamo non è sull'elenco attenzione entra manco qui ti 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 ok hai gettato skyrim ora l'impero ti sconfiggerà per riportare la pace what the hell sono una piccola spada ma che colore mi spira temerario che tipo i miei antenati mi sorridono bene dovete forse dire lo stesso cosa farà cosa farà ho fatto bene tutto fantastico l'ho fatto bene fatto bene la croccia la croccia nella morte come mi cosa non ho voluto si intende l'altro poco ok 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 è arrivato a me un gameplay di venti minuti venti minuti e qui finisce il gameplay, è stato bello giocare con voi caoscazzo e la salvatore ciao ehi se i drag non sputano più fuoco sputa fuoco sono strippato oh no sono strippati ok non c'è più il drago dove scelta non ci vedo cazzo per tutti quando il muro ma che ti prendi lecce che brutto non ci siamo ok diamo via popopo via popopo scappiamo 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 ahhh cosa merda mi ha preso in chino che anche che va a te di vita